Ciao a tutti, con questo video vorrei provare a rispondere ad una persona che mi ha chiesto e mi ha detto Pink, io mi sento solo più madre e non donna, sono entrata solo in quel ruolo, nel ruolo della madre e ho perso la donna, la donna che ero. Allora, succede molto spesso, io posso dare una mia opinione attraverso una mia esperienza personale, quello che ho vissuto, quello che ho visto, quello che ho conosciuto, succede che, meno magari rispetto a tanti anni fa, ma succede ancora e succede ancora troppo, che le donne in qualche modo si vadano a incasellare in un ruolo predefinito. Che è quello della madre, quello della casalinga, quella della lavoratrice, quella del medico, quella dell'avvocato, quella del qualsiasi cosa, della maestra, eccetera, eccetera. In realtà non è così, perché la donna più dell'uomo riesce a svolgere in modo completo più ruoli, perché è più situazioni, è più momenti, è più vicissitudini, è più tutto in definitiva. Io non ho mai visto, mai sentito un uomo che si sia sentito più padre che non uomo. Ecco, non è mai andato in crisi esistenziale un uomo, non è mai arrivato al punto in cui si sia sentito solo padre o solo marito, mentre la donna va a vivere in queste situazioni e va in crisi esistenziale, si può dire. Sono solo madre, sono solo donna, sono solo amante, sono solo femmina, sono solo lavoro. Insomma, la donna tende in qualche modo a infliggersi praticamente questa tortura, no? È come se in qualche modo volesse per forza di cosa annientare una parte di sé a scapito dell'altro, no? Questo almeno è quello che avviene, no? Perché lo si voglia realmente, non lo si voglia, dipende. Però finisce che fa così, no? Si va ad annientare una parte per farne emergere un'altra. Quando in realtà è bravissima a fare tutto, a essere tutto, perché noi siamo tutto. Noi siamo la mamma, noi siamo la donna, noi siamo la femmina, noi siamo la lavoratrice, noi siamo la casalinga, noi siamo l'amica, noi siamo l'amante. Il problema quando sussiste? Sussiste nel momento in cui noi vogliamo eccellere in un ruolo, che può essere quello di madre, che può essere quello di donna, che può essere quello di amante, lavoratrice, eccetera, eccetera. Essere perfette in quel ruolo. Intanto i nostri figli devono imparare, perché e soprattutto arriveranno ad apprezzare tantissimo se noi madri faremo emergere quello che siamo. Intanto, in primis, esseri umani, donne, non perfette, non perfette anche nel ruolo di madre. Quindi attraverso l'insufficienza il figlio potrà imparare, potrà imparare, potrà apprezzarci, potrà comprenderci in qualche modo ed essere anche meno egoista, perché si sa che i figli in un certo qual modo sono egoisti, pretendono sempre ed esclusivamente la presenza costante della madre come se avere la madre fosse un diritto, il diritto di avere una madre, ma non il diritto di avere una madre nel senso più buono, il diritto di avere una madre a disposizione ogni qual volta se necessitasse e si accomodano in qualche modo. Ecco, allora, come si può tornare al ruolo di donna? Si può tornare al ruolo di donna facendole emergere, facendolo riaffiorare, che non vuol dire ritornare ad essere quella donna che si era vent'anni fa. A 40 si è un altro tipo di donna, perché tante volte, per cosa succede? Che una donna fa la mamma, la madre, eccetera, eccetera, stanca solo esclusivamente di quel ruolo, di essersi incasellata in quella situazione, come se andasse fuori di testa, esplode e inizia praticamente ad avere atteggiamenti che non sono neanche quelli di una donna, ma quelli di una bambina, di una ragazzina, è come se per loro ritornare ad essere una donna fosse quello di ritornare ad essere infantili, in un certo qual modo, quell'infantilismo che comunque esiste e sussiste ancora a 25 anni, se vogliamo. No, è un altro modo, riemergere la donna, far riaffiorire, raffiorare, raffiorire, adesso mi è venuto ogni tanto, sono un po' dislessica. La donna che è in noi vuol dire riscoprirsi donna con l'esperienza dei vent'anni, che è completamente diversa. Possiamo dedicare dei momenti per noi, per il ballo, per una passione, per le amiche, per una nostra coccola, per anche dedicare un nostro momento vuol dire anche non adempiere una mansione solo e esclusivamente di madre, magari fare un atto di ribellione e in quel preciso momento, se non si ha voglia, non svolgere quel tipo di mansione, parlare, comunicare con il figlio, il marito, quel che sia, le figlie e dire io non lo voglia, non lo faccio, fatelo voi. Questo è anche un modo per abituare gli altri e anche noi stessi a far emergere quella donna che in qualche modo è assopita, assopita, che rimane nascosta, no? Noi siamo tutto, noi siamo complete, lo sappiamo e non andiamo a incasellarci mamma, donna, nonna, zia. E com'è la zia, no? Noi siamo zie, almeno chi è zio o zia, non è che fa la zia tutta la vita, no? Farà la zia in determinate situazioni, no? Quando esce con la nipote o il nipote, quando lo ascolta per telefono, quando, insomma, c'è l'occasione, non è che per tutto il resto del tempo rimane solo zia. E così dovrebbe essere anche il fatto di fare la madre. Io faccio la madre, e dico faccio la madre, fare la madre, essere madre, ma è tutto un insieme, fare sono, ma non sono solo quello. Ecco, questo è il mio piccolo consiglio e spero che possa essere stato di aiuto. Ciao, ciao!